Succhi di frutta. Per legge, per succo di frutta deve essere soltanto un succo di frutta al 100% di frutta, senza aggiunta di acqua. Per essere succo naturale oppure ricostituito, in questo caso è ottenuto da succo in polvere o concentrato con aggiunta dell'acqua sottratta al succo precedentemente concentrato, cioè privato dell'acqua naturalmente contenuta, ma deve riportare in etichetta l'addizione a base di succo concentrato. Se è ottenuto in parte da frutta e in parte da succo concentrato, deve riportare in etichetta l'addicitura parzialmente a base di succo concentrato. Invece il nettare è un mezzo succo di frutta in quanto deve contenere una percentuale minima di frutta variabile dal 25 al 50%, il resto è acqua, ma nulla vieta di superare le percentuali minime. Quando leggete succo e polpa è un nettare che può avere anche tale denominazione in quanto è ricavato dalla purea del frutto. In genere il nettare è costituito quasi soltanto da succo, per esempio di arancia, mentre il succo e polpa è ottenuto da frutti più solidi come, non so, mele, pere o eccetera. Quando leggete invece bevande a base di succo, per tutto il contenuto minimo di succo di frutta è del 12%, non di più, anche se nulla vieta di superarlo, ma è difficile. Il resto è soltanto acqua, zucchero e spesso molti additivi.